quando un ragazzo commette un errore di questo genere deve essere seguito e deve lavorare per la comunità scolastica per la collettività in questo modo non si perderà umiliandosi anche e viva l'umiliazione che è un fattore fondamentale di crescita e nella costrizione della personalità nei confronti dei suoi compagni si deve prendere le sue responsabilità ci vuole la stigmatizzazione pubblica. Sono queste le parole che oggi ha pronunciato il ministro Giuseppe Valditara nel corso di una intervista e di queste parole parliamo con Aloisi Tosolini che è stato preside, dirigente scolastico di un importante liceo musicale di Parma per molti anni, lui è anche un pedagogista, lui ha grande esperienza anche di rapporto con gli adolescenti, con i giovani. Allora preside che cosa ne pensi di queste parole del ministro? Mi sembrano davvero un po' un po' forti, un po' pesanti. Cercando di contestualizzare il ragionamento del ministro che parlava a Milano, prima di questo intervento ha lodato un dirigente scolastico che nei confronti di alcuni studenti che avevano distrutto, rotto parti su pellettili o comunque elementi dell'edificio scolastico, dice che il dirigente scolastico ha fatto benissimo richiamare tutti alla loro responsabilità eccetera eccetera eccetera. Su questo siamo assolutamente d'accordo, chi non rispetta le regole deve essere ripreso, esiste la possibilità di fare sanzioni anche all'interno della scuola e molto spesso queste sanzioni devono essere appunto sanzioni riparative, cioè sanzioni che manifestano l'impegno dello studente a ripagare il danno, a ripararlo. Da lì il lavoro nei confronti della collettività e della comunità scolastica. Ecco e mi pare che fin qui siamo tutti quanti d'accordo, probabilmente è il passaggio successivo che non è forse del tutto condivisibile, cioè dove si parla di umiliazione. Il passaggio successivo davvero è incomprensibile, nel senso che che io sappia il ministro Valvitaro non è uno psicologo dell'età evolutiva, non è un pedagogista, è un grande esperto di diritto romano, ma non esiste da nessuna parte che l'umiliazione sia, l'umiliazione inflitta, sia formativa della persona, così come la stigmatizzazione. Anzi, da Goffman in avanti tutti gli studi sulla stigmatizzazione segnalano come stigmatizzare significhi negare l'identità e generare dei disastri mostruosi, perché colui che viene stigmatizzato, sì dopo c'è il rischio che diventi violento, il rischio che continui a fare le azioni per le quali viene stigmatizzato, perché lo stigma è come dire tu non puoi cambiare, esattamente al contrario di quello che vorrebbe il ministro con l'assunzione delle responsabilità. Con le parole bisogna stare attenti, perché probabilmente troppo spesso noi confondiamo umiltà e umiliazione, perché attenzione il magnificat, il magnificat, anima mia magnifica al Signore, il mio spirito esulta in Dio mio saudatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva, non all'umiliazione di Maria, madre di Gesù di Nazareth, all'umiltà della sua serva e ancora più ha rovesciato i potenti dal trono e ha innalzato gli umili, beati gli umili, ma umile è una cosa, l'umiliazione è tutto un altro paio di maniche, anzi la prima cosa che deve fare colui che è umile è eliminare l'umiliazione, cioè è cercare di fare in modo che migliori la qualità riscattare che è umiliato, la prima espressione di umiltà buona è proprio quella che vive chi cerca di riscattare chi è stato umiliato, l'umiliato non va da nessuna parte poveretto, in questo caso è solo un atto di potere da parte di un'autorità che lo mette ai margini e non mettere ai margini non significa in nessun modo, in nessun modo diventare formativi. Quindi nessuna pedagogia dell'umiliazione ma una pedagogia della responsabilità, possiamo dire questo? Certamente, la pedagogia della responsabilità, la pedagogia dell'umiliazione è come dire pensare, pensare che colui che ha fatto un atto che viene da tutti riconosciuto come come dire esecrabile, condannabile, a cui lui deve porre rimedio, l'umiliazione non fa nient'altro che accentuare ulteriormente il suo percorso, non è assolutamente vero il veni che l'umiliazione lo riporta, umiliazione, ci sono delle umiliazioni ma che sono quelle che ti fanno capire che tu sei umile, cioè terreno, terra, l'umiliazione, ma io non direi che la morte mi umilia, la morte fa percepire il mio limite, non direi che la mia malattia mi umilia, certo mi umilia ma perché mi fa capire che io sono terreno e che io devo trovare un modo di riscatto, ma l'umiliazione veramente non porta da nessuna parte, pensare ad una pedagogia dell'umiliazione sarebbe veramente gravissimo, io oso pensare che il ministro, diciamo così, abbia detto una sciocchezza perché si è lasciato andare in un ragionamento che è partito bene ma è finito malissimo. Grazie a Daluisi Tosolini per queste parole, per queste sue considerazioni che sicuramente possono darci materiale di riflessione, grazie. 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 Grazie.